Il 53esimo Settecolli, Roma, in compagnia con Blogarca Capas. Benvenuti a Roma. Un bellissimo, straordinario europeo da parte tua. Ti sei confermata la rivelazione di quest'anno. E' stato un buon campeonato europeo da tua parte. E' stato un po' meraviglioso. Grazie mille. La tua prestazione di oggi ovviamente è una prestazione in carico. Adesso abbiamo un mese davanti e poi sarai progettata a Rio per le Olimpiadi. Dove lo scenario da europeo cambierà a mondiale. Quali sono le tue avversari che ti preoccupano di più? Quindi sei preparato per un altro grande evento. Come sei preparato per questo? E quali sono le tue avversari? Chi sei guardato? Chi sei guardato? E questo è un po' meraviglioso. E' stato un po' meraviglioso. E' un po' meraviglioso. Il primo passo è il Rio, gli Olimpioli, e stiamo attraverso fortemente, e i miei amici saranno... Cosa ti dice? 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 Però non mi piace dicere, perché è una cosa che crede che sia la migliore, perché voglio essere la migliore. E vediamo chi va vincere, ma credo che lei va. Beh, da Europa c'è Carl & Jasmine, da Bretagna, c'è Belmonte. La nazionale ungherese di nuoto è una delle nazionali al momento europeo molto forti, ci sei te, c'è la tua compagna di squadra Katinka Otsu, Daniel Ghurta e tanti altri. Come state preparando, come gruppo, questa spedizione verso Rio? Il vostro amico nel vostro paese è molto buono, molto forte e potenti. Come si prepara per Rio come squadra? Sì, abbiamo una campagna di squadra in Hódmezővassarhely. Sì, è una campagna di squadra in Hungary. E poi tenni tre settembre qui, dopo che siamo andati a Roma. E poi tenni solo una settembre a casa e poi riusciamo a Rio, quindi non abbiamo tanto tempo. Sì, stiamo trainando duro. Ti facciamo i nostri complimenti, in bocca al lupo e benvenuta a Roma. Speriamo che il tuo soggiorno in Italia sia piacevole. Speriamo il miglior e grazie molto per rimanere con noi. E benvenuti a Roma, per esempio. Grazie. Grazie. Grazie.